Bella a tutti ragazzi, bentornati qui in un nuovo video. Oggi sarò qui per farvi vedere, per fare un pack opening con i nuovi pacchetti per riuscire a trovare dei giocatori del Team of the Year. Cominciamo, provo con un pacchetto da 15.000 crediti. No, pisarlo, no, vaffanculo, dio, c***o, pisarlo, 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 pisarlo. Riproviamo a aprire un altro. Speriamo almeno in questo, speriamo, 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 speriamo. Eccolo, eccolo, sì, 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 lo sento. Hazard, hazard, hazard! Hazard, 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 sì, sì, hazard, good player. Dio Masso, sì, sì, hazard, 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 hazard. Ritentiamo la fortuna con il primo trattato hazard, adesso vediamo chi trovo. Dai, 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 sì, lo sento, che c***o, sì, lo sento, lo sento, lo sento. Proviamo con il quarto pacchetto, se non erro. Ne credo, no, va bene, non mi importa. Quinto pacchetto. Eccolo, 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 sì, 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 è lui, è lui, è lui, è lui, è lui, è lui. Ma che c***o è sto qua, dai, fa ridere. Ah, c***o. Sesto pacchetto. Anzi, no. Sì, dai, lasciamo. Sesto pacchetto. Vediamo, vediamo, vediamo. Daniela Sblu. Gliorente, no. Ragazzi, ultimo pacchetto. Ultimo pacchetto, ultimo pacchetto. Ultimo pacchetto, ultimo, ultimo. Dai, dai, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore. Per favore. No, hanno il cavo, affanculo. Allora, ragazzi, per questo è tutto. Ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Ciao.